Via, ci mancava anche il grullaio delle scritte Novax sui muri dell'ala nuova dell'ospedale Santo Stefano e del centro Pegaso di via Galgianese. Ha attinto a piene mani dalla sua toscanità il sindaco di Prato Matteo Biffoni per andare all'attacco degli autori delle scritte contro i vaccini anticovid da parsi nelle scorse ore. Le scritte, simili a quelle già viste in molte altre occasioni, citano il nazismo ed equiparano il vaccino alla morte. La direttrice dell'ospedale Sara Melani ha già denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine. Io me li immagino mentre scrivono quelle frasi e disquisiscono dei chip sottopelle, di grafene e dei poteri forti e poi tornano nelle loro case tronfi e soddisfatti per questa bravata, scritto ancora Biffoni, del quale è rimasto negli annali un altro sfogo, quello in pieno lockdown contro Veronichina. Veronica si può uscire, si può uscire in centri, io, si può uscire in centri sabato sera, allora non ci siamo capiti. Oh ragazzi ma, io ditemi voi cosa devo dire. Non si può uscire, si aggiunge, vai a trovare i congiunti, vai a trovarli, non in centro, che è tutto giuso fra l'altro. Ma davvero ragazzi non mi dite che c'è ancora qualcuno che pensa questa roba, non Veronichina, Veronichina. Ai fenomeni che hanno scritto sui muri del centro Pegaso e dell'ospedale, auguriamo di farsi una vita, ha scritto ancora il sindaco di Prato, liberi di non vaccinarsi, per carità, il problema è solo vostro, ma evitateci queste sceneggiate.